Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, al valico di Rafai in Egitto per preparare l'ingresso degli aiuti a Gaza, che non dovrebbe comunque avvenire nella giornata di oggi. Stamattina ha ripreso il lancio di razzi da Gaza verso il sud di Israele, sempre più intensi. I raid israeliani sulla striscia e le forze armate si preparano a quella che definiscono una nuova fase della guerra. Per l'ONU qualsiasi escalation dell'azione militare israeliana a Gaza sarà catastrofica per la popolazione. E intanto il patriarcato ortodosso di Gerusalemme condanna l'attacco aereo israeliano che ha colpito una sua chiesa a Gaza.